Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft con Urban Jack Ciao ragazzi! Allora ragazzi, mi dispiace che sia passato così tanto tempo dall'ultimo video però ci sono state alcune cause di forza maggiore aver iniziato le lezioni e un'altra cosa che andrò a spiegarvi a breve che mi hanno un po' fermato comunque scusatemi veramente è passato troppo tempo dall'ultimo video comunque ragazzi, questo video sarà un po' più breve del solito perché andremo più a discutere una problematica che occorre ormai da parecchio tempo e che si è manifestata con un'altra problematica ancora che adesso vi faccio vedere vedete che qua c'è stato un chunk reset allora, che cos'è un chunk reset? praticamente i chunk si sono resettati praticamente questa cosa avviene quando il mondo si modifica troppo però a me non sembra di averlo modificato troppo mi ero già portato avanti facendo altre cose off camera come per esempio questa cosa qua oppure altre cose aggiunte alla fan delle mucche e poi dopo è venuta fuori sta cosa qua è veramente un casino perché praticamente il chunk reset quando si modifica troppo il mondo lui, Minecraft, va a intervenire nella parte del mondo che è stata modificata troppo e la riporta o allo stato originale o a uno stato comunque di mondo base qua ovviamente non c'era questo bioma qua questo è un bioma da sembra da palude con la terra così scura qui una volta c'era la pianura semplice quindi non ha neanche riportato quello ma me l'avesse fatto da un'altra parte che ne so su un altro pezzo della struttura va bene amen avrei rifatto la struttura e peccato che me l'abbia fatto forse in una delle due stanze più importanti del del di tutto qua che è quella del dello smistamento chest quella che dava energia a tutto dove dentro ci sono c'era il pavimento di lava c'era l'engine e tutto ci sono tutti gli engine c'era il tesseract forse il tesseract è l'unico che si è salvato infatti guardate qua il problema adesso non è riportare rifare tutto perché posso rifarlo tranquillamente basta che metto i cheat e in due secondi rifaccio tutto il problema è che se si è verificato una volta potrebbe verificarsi di nuovo e questo è il problema mettiamo che io rifaccio tutto e tutto vado avanti ancora a due episodi e poi al terzo episodio di nuovo di nuovo ho il chunk reset di nuovo qua o in una qualunque altra zona della mappa che ho modificato abbastanza sarebbe catastrofico se mi venisse qua sopra dove c'è lo smistamento chest già abbastanza catastrofico qua con tutti gli engine tolti tutti quei macchinari le chest dove avevo tutte le cose che riguardavano i macchinari branch tutti gli oggetti che li tenevo lì apposta per non andare a cercare tutte le volte all'interno dello smistamento chest li tenevo in quelle due chest che c'erano di fianco lì appena entrati sulla destra è un bel casino ragazzi e quindi quindi non so veramente cosa fare se questo chunk reset appunto è legato al fatto che ho modificato troppo il mondo ma non penso che sia questo non credo proprio mi viene più da pensare a una cosa tipo che essendo la direwolf quella attuale una public beta version cioè una beta e che quindi è sottoposta a continui aggiornamenti abbia comunque alcune cose che ancora non vanno questo l'avevamo visto anche prima con le mod non aggiornate che poi si aggiornavano i crash continui io che ho dovuto ricaricare due volte dei salvataggi vecchi di mondi io ce l'ho un salvataggio vecchio di mondo solo che è indietro di due o tre episodi due o tre episodi significa rifare quello ci sarebbe ancora però tutte le cose che abbiamo fatto qua su questo vedete mi l'ho portato avanti avevo fatto questo blocco qua che vedete non sentite i rumori delle mucche no? forse li sentite li sentite poco perché questo blocco qua che si chiama sound muffler ha tutti i suoni degli animali o penso anche di tutti i suoni non lo so probabilmente l'unica a far casino sono queste mucche qua che non so neanche io come sono uscite dal recinto comunque ragazzi le alternative sono continuare qua perché veramente quello che abbiamo fatto finora è tanto e vorrei continuarlo e mandarlo avanti ancora per tanti episodi però sempre con il rischio di un chunk reset questo è un rischio non ci si può fare niente oppure interrompere qua la serie e cercare iniziare una nuova con magari un pacchetto che non sia in beta o magari addirittura su un nuovo launcher per esempio la T-launcher che l'ho consigliato a molti di voi che appunto anche queste persone a cui l'ho consigliato avevano avuto dei problemi di qualche genere con la con la dare o al forno riuscivano a scaricarla oppure avevano dei problemi di vario genere di qualsiasi cosa qualsiasi cosa vi possa venire in mente veramente sono state una quindicina di persone almeno che mi hanno scritto nei commenti privati nei commenti pubblici o privatamente che avevano dei problemi quindi è veramente un casino anch'io sono veramente indeciso su cosa fare per questo punto vorrei che voi commentaste e mi diceste appunto se preferite che io continui qua però è veramente anche demoralizzante avere questa cosa qua dopo che è veramente demoralizzante la casa veramente chi se ne frega avevo iniziato a costruirla è sempre rimasta a metà poi guardate che cosa succede al cielo cioè guardate entro qua dentro viene così esco qua fuori e viene così è un vero macello oppure appunto se volete che mi dispiace anche dire rinizio un'altra serie perché sempre perché ho già iniziato è già successo una volta che avevo avuto dei problemi con un pacchetto e dopo tre episodi ho iniziato un altro nuovo che è appunto quello della Dark Wolf e non vorrei fare di nuovo così perché è veramente un macello perché vorrei avere un minimo di continuità però se il pacchetto non me lo permette non posso veramente farlo andrei veramente avanti a fare delle cose che poi mi si ritorcono contro è un casino quindi ragazzi mi dispiace mi dispiace che questo episodio anche sia venuto così non non è un episodio fuffa no vabbè però volevo spiegarvi appunto questa problematica e spero soltanto che voi possiate capirmi nello stato di indecisione in cui mi trovo e anche di sconforto più che altro è lo sconforto ragazzi da aver fatto finalmente una serie che piaceva è vero non avrò ottenuto migliaia e migliaia di iscritti anzi veramente poche decine per questa però comunque mi ha fatto crescere veramente tanto questa serie e quindi non vorrei abbandonarla per niente però se mi vedo costretto a farlo cioè piuttosto che essere incapacitato a continuarla preferisco iniziarne una nuova però ho paura appunto di perdere di perdere anche qualcuno che mi segue e quello è il problema per sempre questa problematica comunque qua volevo fare avevo iniziato a fare appunto questo coso qua perchè i rumori del mucca erano troppo erano troppi qua sotto vedete ho fatto il tank per l'esperienza perchè ho fatto un vacuum hopper qua che prende l'esperienza perchè quando le mucche fanno il breeding semplicemente fanno venire fuori dall'esperienza quindi questo prende l'esperienza e la porta qua e quindi poi l'idea era di trasportarla da qua fino all'enchantment table però qua sotto ho fatto una stanza perchè se ben vedete c'è un altro tank che non è quello dell'esperienza che abbiamo visto finora ma della mob essence che si fa si fa col col grinder questa mob essence qua è utilizzata soprattutto io l'avrei utilizzata soprattutto per fare un macchinario molto molto ma molto figo che è questo macchinario qua l'autospawner questo bellissimo autospawner qua va a corrente e va con questa bellissima mob essence ogni 500 MB di mob essence lui fa come dice il nome fa spawnare un mob praticamente bisogna creare una stanza mi pare che sia almeno 6x6x5 adesso non sono sicuro di averla fatta perfettamente giusta comunque mi pare no scusate non 6x6 ma 9x9x6 per 6 d'altezza quindi dovrei andare ancora giù di 1 mi pare e rifornirlo appunto di energia e di e di quel liquido lì della mob essence e come funziona questo coso qua dentro ha un ha un ha uno slot no questo slot andrà occupato da un da un safari net però il safari net io avevo sbagliato pensavo bastasse il safari net a singolo a uso singolo avevo preso anche un enderman perché appunto volevo far spawnare enderman e fare appunto una farm di enderpearl e quindi avrà poi abbastanza enderpearl da andare a cercare il portale per land ma non va bene questo safari net a uso singolo ma serve quello riusabile che si fa appunto con 4 enderpearl quindi è una ghast tier che è abbastanza più complicato da fare però questo una volta preso questo e catturato il mob che voi volete far spawnare lo prendete e lo ficcate qua dentro col mob catturato e lui ogni 500 mb inizierà a spawnare uno di quei mob e quindi volevo fare una farm in questo genere anche se non avevo bene idea di come far uccidere gli enderman anche se più che altro il problema mio per gli enderman era trovarli non ucciderli quindi boh ragazzi spero di enderman ah 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 dai dai vieni qua 100 euro che non mi droppi neanche un enderpearl è sparito bene comunque ragazzi spero che comunque beh non è stato un vero e proprio episodio ma comunque un po' di tempo è durato mi raccomando scrivete nei commenti e per sapere vorrei sapere appunto cosa ne pensate della serie e secondo voi qual è l'opzione più giusta da fare in futuro appunto i vostri consigli penso mi saranno utili quindi grazie a tutti per la visione per il supporto quello non vi smetterò mai di ringraziarvi grazie a tutti ragazzi e da Urban Jack è tutto ciao ciao ciao